Oggi parliamo di questo progetto della Camera di Commercio che è Innovation Block, la riqualificazione e anche la ristrutturazione di immobili storici come l'ex Borsa Valori insieme anche ai lavori che faremo sul Palazzo Affari e sull'ex Borsa Merci. Innovation Block perché è un insieme di spazi che daranno luogo a nuovi servizi specialmente per le piccole e medie imprese del settore del terziario in ambito del digitale ma anche sull'impatto sociale perché l'ex Borsa Valori vogliamo portare la prima borsa sociale delle imprese dedicate al sociale. Un grande spazio per eventi con il nuovo centro congressi che verrà ristrutturato e la grande sala delle grida dove ci sono più di quasi 1500 metri quadri in una grande sala destinata ad eventi e a manifestazioni che sarà quindi organizzato per la città. Parliamo di circa 25 milioni di euro e che pensiamo di realizzare questi lavori nell'arco dei prossimi tre anni. Un regalo per la città? Sicuramente un grande abbraccio alla città in questo piazzale Valdo Fusi dove si affacciano anche altri soggetti come la scuola di SP quindi molti studenti che arriveranno in questa piazza quindi vogliamo veramente che sia uno sforzo aperto alla città e alla comunità di Torino.